Allora io sono Marco Scorone e signore e signori bentornati nell'ottima Becraft 2 da oggi con il bellissimo vulcano cui ancora dietro non c'è effettivamente niente sta rannando come avete potuto vedere da questa animazione la mia amica super fortunella fatta proprio nell'ultima puntata Fortunated Miner Queen che ci sta dando tanti diamanti e qui poi sposteremo l'agenda astra e alcuni di voi nei commenti mi hanno chiesto di fare una stanza citazione della prima Becraft con le armature lì sotto va bene ragazzi la facciamo in live altre persone mi hanno detto perché non metti un Iron Golem qui dentro regà purtroppo quest'ape prende le cose soltanto dai mob aggressivi e non dai boss quindi non ci possiamo neanche mettere il Wither Boss però signore e signori ci abbiamo messo uno slime così per fare tutti i crafting della Refined non abbiamo più bisogno di craftare lo slime ma abbiamo lo slime quindi è molto 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 better io qui sono pieno di libri perché perché praticamente quest'ape di merda quest'ape qua incanta un oggetto con un qualsiasi incantesimo random di Minecraft quindi io sinceramente se ci metto un'armatura non so che possa uscire ok potremmo uscire acqua feriti ci ho messo uno di questi l'ho dovuto rifare mi è uscito fuel efficiency what the fuck e quindi dietro sto craftando tutti questi adesso vi faccio vedere nella precedente puntata abbiamo fatto anche i platinum queen e la standom queen ragazzotti andiamo a vedere 1900 di pulverized platinum e 1200 di nuggets teen quindi niente niente male ma a parte tutte queste cosine questa serie è in pericolo e non è in pericolo perché io sto facendo una marea di minchie una marea di protection assolutamente non è per quello non è perché ho poca esperienza figuratevi ce ne abbiamo abbiamo l'ape dell'esperienza che ci rifornisce vedete come ottengo il protection io tac poi fai così tac poi fai così tac protection 4 e non so se ci arriviamo però eh non ne ho idea vediamo 3 uh si 3 3 un altro 4 e oh no costa troppo e allora andiamo a prendere questa qui facciamo così ci cicciottiamo l'esperienza e dove sei ciccia signori abbiamo protection no no ok questo è il massimo minecraft la cosa mi combini dai non ce l'hai non c'hai protection 5 è minecraft su vabbè minecraft io ancora mi stupisco del vanilla ancora mi stupisco no perché volevo potenziarmi questa armatura no anche questo e invece cioè mi piace così si protection 4 buono spero di non perderlo forse quasi quasi non lo metto qui ma lo metto qui e qui si tacchete tacchete così abbiamo l'armatura che già protegge più del diamante con il 100 per cento in più di protezione data dalle api armature armaturose in più ci abbiamo il vanilla protection niente niente male certo che però consuma davvero tanti libri comunque ragazzi intanto adesso l'esperienza la riprendiamo grazie a ah ecco perché non stavo più prendendo esperienza bella ciccia dammi un po di esperi experience please please thank you so much il nostro problema è un altro ragazzi ed è terribile è terribile io ma qui c'è un autocollect che non sapevo che meraviglia dicevo è è un punto grigio di questa serie uno dei blocchi che più vi ho fatto vi ho presentato come nuovi il mio ender rift ragazzi ha un problema è troppo è stato troppo ingordo e insomma ci stanno 20.702 slot usati e la refined cerca di leggere un unico inventario da così tanti oggetti e fa laggare il mondo andiamo a fare un tps il server dice 20 20 tps quindi signori non è il server alla gare però se noi andiamo a fare f3 vediamo in questa zona abbiamo 18 18 19 fps sono pochissimi pochissimi per il mio computer per il server di emax e comunque va alla bomba e quindi l'unico problema che abbiamo individuato abbiamo scoperto è questo è terribile è terribile dobbiamo dirgli addio signori dobbiamo dobbiamo si è impallato tutto quanto ok si è scastrato molto bene dobbiamo dirgli addio e per dirgli addio io intanto qui stavo facendo ho fatto una farmina di api vediamo un po' se stanno funzionando yes stanno funzionando molto bene prima di partire con un miner più importante con un ape del diamante partire con qualsiasi viaggio nel land cioè dobbiamo risolvere questo come la risolviamo fortunatamente abbiamo un addon meraviglioso attenzione si chiama refined facciamo così ecco la qua non le 1 le 2 le 4 le 16 le 24 fluid scusate storage part bensì abbiamo le 256 le 1024 le 4096 le 16384 con cui fare l'ultima storage disk e io questa ho messo a craftare cioè ho messo la possibilità di craftarla vediamo che vuole allora vuole 2.700 dei projects binding 2.000 di questi 7.000 vuole 367 diamanti vuole 5.000 di ferro ragazzi è davvero davvero tanta roba e noi la mettiamo a craftare per il bene della serie non ho idea di come come si comporterà più che altro per fare tanti di questi vuol dire che li cuoce quindi deve andare tutto qui uh ma io ho messo questi cosi qui che si ai 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 se faccio un figlio forse è il caso che moltiplichiamo questa produzione perché se no se no è un cazzo tutto perché questo aspetta questo che aspetta questo che aspetta quell'altro ok faccio altri 2-3 fornaci ragazzotti e torniamo qui per vedere un po' la situazione questa è una fase importantissima dobbiamo avere tutto a sincerarci vedete la macchina non accetta gli item dobbiamo assolutamente farlo e il prima possibile dobbiamo verificare se possiamo craftarne delle altre quindi let's go bene ragazzi è il momento io qui ho sistemato come vi ho promesso potenziate tutte quante guardate questa qui adesso è ferma questa sta facendo una marea di questi ma queste due mi preoccupano tantissimissimo ragazzi il quarzo e il glass sono quantità indicibili 12.000 di quarzo viene processato 6.000 all'incirca di sabbia diventa glass quindi tralasciando la quantità spasmodica di quarzo serve per fare il quarzo enrichment e di slimeball e queste qui guardate quante ne si accraftate ok cioè va bene d'accordo direzzo ne va bene tutto quanto la cosa che forse ci interessa di più è quella dell'ape di quarzo quindi piuttosto che spammare l'ape di quarzo ragazzi guardate che lag incredibile questo mondo lo stiamo perdendo eccola qua sarebbe perché effettivamente la posso pure spammare però ci dà al 20% questo schifo no? ci sta anche un'altra ave se non sbaglio che ce lo dà questa è poca ce lo dà pochissima volte al 30% il melon combo però il melon ce lo dà 20% al 10% quindi è una combinazione molto molto più scarso non ci interessa quindi signori forse è giunto il momento di iniziare la genetica se iniziassimo la genetica potremmo potenziare quest'ave e poi produrla in schiera in modo da avere abbastanza quarzo da soddisfare la richiesta piuttosto io ascoltate il mio il mio suggerimento invece di fare che un'ape va qui e butta tutto il quarzo qua dentro io farei due api super potenziate uno col quarzo qui dentro e quindi ci facciamo le cose col quarzo e l'iron arricciato e un'altra ape che invece va subito dentro la fornace a fare il silicio perché si lo so l'ho detto bene perché altrimenti 12.000 regà ma quando affittiamo il glass invece è molto meno problematico non so qui che fine abbia fatto tutto quanto sinceramente forse ha omesso soltanto l'accumulo della sabbia quella roba va velocizzata effettivamente ma signori direi che è giunto il momento quindi let's go a potenziare queste api eccoci qua eccoci qua fuori abbiamo bisogno del genetic imprinter sample e sinceramente boh dobbiamo dobbiamo scoprirlo insieme perché questa parte ragazzi io non l'avevo programmata in questo momento davvero onestissimamente ho detto entro nel server faccio un'altra cosa però davanti a tutta questa lag io ci tengo al mio genetic yes ci tengo al mio let's play mi piace tanto 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 sta serie non voglio che qualcuno me la rompa soprattutto una mod che ho usato io io adesso non ve lo faccio vedere perché ovviamente sta craftando ma sappiate che nel momento in cui stacchi la refined dal quel quel lander rift effettivamente tutto ritorna normale e lo so è un po da strudze vediamo se abbiamo abbastanza abbastanza cose facciamo un altro pistoncino ricordo ricordo non ricordo mai che la gendastri invece viene un sacco di materiali ma proprio tanti 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 e abbiamo il genetic imprinter allora questi qui li andiamo a scoprire insieme ragazzotti quindi io direi di poggiare questo qui poi li sposteremo verso la il nostro vulcano adesso vorrei stare alla luce del sole e vicino a casa nel caso il cui si è oddio forse laggiamo di meno vediamo un po forse di qua laggiamo di meno e invece no non è un problema grafico non è una quantità è proprio che in quel chunk si sta lavorando tanto quindi essendo chancato ragazzi noi laggiamo un po ovunque nel mondo sono molto seddo dovremmo smettere di cercarlo e andarci lontano ma così non avremo mai la nostra cosa quindi è un cane che si morte la coda andiamo a prendere i flu x ragazzi e oppela 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 andiamo a mettere qui il genetic imprinter che ci dirà che cosa fa signori il genetic imprinter mette un tipo di carattere all'interno dell'avea quindi con il genetic template eccolo qua questo è il transposer che lo scambia l'imprinter lo mette dentro un ape quello che invece a noi ci serve non è l'imprinter ma non è il replicator non è il forse il sample sampler vediamo sì signori è questo vedete una chance l'ape il labwire e poi il b sample perfetto è il sampler stessa cosa let's go ecco qua signori il nostro genetic sample in cui possiamo con questo possiamo prendere e successivamente mettere sempre con l'ausilio dei questi qui labwire maledetti che ne vogliono davvero 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 tanti e quindi ci costano un pochino di diamanti però vabbè che vita godi di ero convinto di averne chiesto i due stack giuro però probabilmente sta ancora facendo il vetro e io gli ho incurato probabilmente del vetro sono molto sed questa è l'ape che ci serve signori l'ape robot ho dato una crocca al tavolo incredibile è l'ape con lo speed production più veloce dell'intero minecraft moddato a poso guardate come come apeggiano sembra che sono loro a far la gara invece no le api sono buone signori sono soltanto delle immagini 2d quindi non fanno la che c'è fanno la gare ma in meno entità la clockwork noi l'avevamo fatta dico bene o dico esatto però poi l'abbiamo usata come uno stronzo l'ho usata per fare la energy e te pareva però magari usciamo a fare l'elettricista vediamo un po ci vuole la clockwork e l'engineering in geniere signori ce l'abbiamo ova papacco signori abbiamo l'engineering quindi io posso facciamo così uccidere quest'ape vedete con il life spawn life spawn upgrade che la manda più velocemente a salutarci d'accordo sebbene ci sia un frame meraviglioso che però non possiamo ottenere il nuovo frame che le stecca in un istante sare un po sed per questo sare un po sed comunque attendiamo che quest'ape muoia prendiamo la regina la mettiamo insieme alla clockwork la facciamo diventare elettricista prendiamo l'elettricista e l'energia si dicevo si la clockwork drone e l'elettricista super cicciotta e facciamola perfetto il piano è semplice ma geniale possiamo farcela se se no mentre però aspetto c'è un'altra cosa che volevo magari permesso volevo vedere perché ho notato che questi cicci qui sono lenti ma sono sono lenti lentissime io non mi ricordo assolutamente come si fanno i tubi che ti danno più 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 importanza più vediamo un po vedete questa cosa questa robetta ti fa diventare più veloce le macchine della forestry ora io non so qual è più veloce tra uno di questi potenziati increase or speed niente male increase flowering attenzione o quello della thermal potenziato però per adesso ci abbiamo questi mi sono detto perché non facciamo i tubi per potenziare questi qui quindi andiamo un pochino a vedere vedete questo automatic frame in elettrico simulator tutto quanto quindi queste qui sono credo per le farm nella farm nel vedi machine machine automatic farm attenzione l'emeralda aumenta la speed del 12 ma anche l'usage del 15 noi cercavamo qualcosa che aumenti un pochino di più la speed production by 50 per cento questo non è male però per le avi è a noi ci interessa qualche cosa production wow ma dove andiamo a metterle queste scusa ma è bellissimo davvero posso potenziarla così tanto secondo me viene un ape di cristo e poi c'è l'ender electron tube che serve per fare l'ender farm non voglio fare l'ender farm non voglio fare i farm della forest ci sono orribonde inguardabili dobbiamo studiare un attimo la situation mentre la nostra ape muore è ora che tu muore allora di qua la nostra ape l'è pronta quindi elettricista più clockwork facciamo no aspetta l'ingegneria poi facciamo l'elettricista l'elettricista se non sbaglio diventa soltanto una robot quindi chissà che non ce ne frega nessunamente niente ho un po' paura che questa qui mi dia la scossa perché ha delle cose zompettose però sembra di no andiamo un attimo a vedere giusto per curiosità qual è il suo effetto oh mio dio qui dentro c'ho delle cose metallic uh si 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 ti ti bzz bzz ok credo che questo qui renda i creeper chargiosi però non so perché non se la prende con me beh vabbè e ho trovato signori sulla wiki ho trovato il blazing electro tube signori che ci dà il 25% di speed in più che non è affatto male e visto che noi il termionic già l'abbiamo fatto ci basta credo si fare così posso togliere questo questo e questo si grazie mettiamo questi tubetti qui dentro andiamo a fare il blazingo morbidino yes grazie solo 10 ma si ce ne ho pochi ce ne ho tanti e quindi li mettiamo qui dentro oppela e oppela vai chicco uno si perfetto se non sbaglio non posso mettercelo così ci serve una cosina vediamo a vedere questo che cos'è è un refined circuit ragazzi sapete che mi sa che questo ci posso mettere più più no dai aspetta posso posso sommarli ma sul serio posso metterli bomba posso mettere tre slot oh oh ma la peppina di mallorca ok facciamo quello più importante questo è 4 questo è 3 questo è 2 questo è 1 facciamo quello da 4 si redstone eccolo a me e goldone ce ne abbiamo il goldone è carato drasticamente da quando abbiamo fatto questo crafting va bene sono un po' sed non era così sono una pippa al contrario vai ciccio ciccio fatti e mi sa che serve anche questo e quindi devo andarla a premere prendere però non ha l'elettricità come non ha l'elettricità da ciccio cos'è 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 successo qui ragazzi devo stare attento a tutto devo stare devo stare attento a tutto se no a questi qui è subito iron molto bene oh de de bronzo ne ho craftati umillante nell'attesa signori sta per arrivare l'intrigo circuit bird 3 2 1 molto lento ok grazie e poi direi che possiamo mettere a fando questo qui che credo sia importante credo eh quindi c'era un modo per aprire questo fregate e non era così vedete come la la forestry sia a parte per le apiche è bellissima sia davvero un cagatore mostruo non è che è un cagatone è che è un pochino poco ergonomica diciamo che sulla sulla b-braining ci hanno fatto tante tante guide e quindi uno se vuole impara però per il resto cioè metti prendi togli metti la capsula togli la capsula metti air soldering fai air sword fai 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 così fai così bam guardate no aspetta ciccio fermati ok io adesso ci metto questo poi questo questo e questo no aspetta si quanti quanti ne ha presi tutti e quattro signori ne ha presi tutti e quattro però non è una è un machine upgrade vero si amount of tube don't match size oh non ho capito si capisce il cazzo si pronto possibile che lei non è no ma non è un clipatai come faccio a sbrollarlo si sbrolli lei si deve sbroll si sbroll non si sbrolla non si sbrolla ho fatto un altro proviamo a mettercelo dentro sbrem 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 signori un socket machine perfetto quindi è perso per sempre quell'altro sul serio ora qual è quello che volevo andasse veloce questo vai vai radiatela ah si ah è davvero è davvero poco intuitivo l'avrò fatto una volta nella mia carriera minecraftosa oh eccola qui e davvero raga è incredibilmente poco intuitivo abbiamo la robotic la robotic chissà che fa la robotic di effetto cioè a parte che è molto veloce andiamo a vedere la robottina che ci dice non ha effetto e ha production robotic che è migliore di super speed ragazzi del più speed non si può quindi la facciamo ne facciamo fare almeno un pochino di figli una decina io lascerò una mezz'oretta acceso intanto cerco di scoprire come cazzo si ti faccio una fiore di merda cioè dai chicco mamma mamma ragazzotti proprio veloce 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 come sospettavo una puntatina così vai un'oretta e la registri posso scendere corcacchio raga corcacchio dodicimila di quarzo non si craftano non si sfornacciano banco se li ammazzi ho fatto la fornace con tre augmentation quindi dovrebbe andare super veloce e comunque ci mette un sacco un sacco di tempo allora ho evocato le mie api meravigliose le smelter queen e guardate qua bibibibibibi devo dire che la velocità è aumentata quindi sono stato molto molto qui e ho colto l'occasione per fare un'altra robot usando i figli che avevo ok e mettendola a ciclare con un'ape normale vi ricordo che certe volte il tratto viene certe volte no in questo caso c'è mi è uscita abbastanza pura quindi ci sta ed ecco quindi il momento tanto aspettato mmm non vedevo non vedevo davvero l'ora andiamo a farne 64 questi ma si perché questi qui sono il contenitore dei nostri geni aspettiamo che ci craftino molto bene molto molto bene li mettiamo qui insieme alla labwire e ci mettiamo dentro il drone che vogliamo ovviamente ci possiamo pure mettere la queen ragazzi però io se devo proprio essere onestissimo con voi ve lo sconsiglierei no eh quindi come potete vedere qui tira fuori dei tipi di gene in questo caso ci ha tirato fuori il life spawn long che non è un tratto schifoso se devo essere sincero quindi andiamo a prendere una chest più grande che possiamo posso riottenere diamanti da questa chest no andiamo a prendere degli item eccolo qua e dei servo perfetto e andiamo operà metterli magari che cacchio le so li mettiamo qui giusto? perfetto? perfetto! ci mettiamo i nostri ciccici e gli diciamo guardaci tira li fuori perché gli vogliamo dare un'occhiata purtroppo non sono staccabili quindi anche perché sono diversi no? allora qui che abbiamo tolleranza e life spawn long buono però non è proprio quello che vogliamo intanto che aspetto che se ne facciano altri volevo ricordare volevo mi sono ricordato che ho fatto una figura di merda qui signori perché basta inserirlo cioè tu proprio lo prendi da qui lo metti qui dentro e lui si incastra esatto poi per toglierlo serve il solder che non mi piace così squadrato serve il solder ma vabbè allora quello che stiamo cercando noi non è tutta questa robetta qui non è il fiore non è l'umidità non è mio nonno non è quella roba là ma ragazzotti anche l'effetto onestamente non l'effetto va bene quindi long che sia una più molto duratura che sia quindi non perde troppo tempo a morire rigenerarsi e tutto quanto che non abbia un effetto brutto il flowering slow non ce ne frega niente quello che ci interessa ovviamente è lo speed production che però ce l'ho di sfiga o ce l'ho di culo noi dobbiamo incrociare le di tonza fare così queste qui se non vi servono le potete smeltare e ritornano a essere neutre ovviamente io non avrò culo in tutto questo ma proprio manco sette mazze eh già una cosa che però possiamo fare sicuramente anzi la faremo eh mi ricordo che c'era un'ape forse la sele bitrori se se le se le se le quest'ape non dormiva mai cioè nel senso non aveva problematiche di sonno fammi vedere fammi vedere se è lei eh appela era diurna e notturna quindi un'ape diurna e notturna significa che ci fa risparmiare questo upgrade qua il light upgrade le rochi della vecchia generazione invece cioè almeno per quanto riguarda le vecchie tech and becraft ma quindi abbiamo le rochi della morbis e le rochi della binni attenzione a questa importante distinzione una era diurna e notturna e voleva gli ore ok perfetto questa è notturna e diurna e in più c'è una cosa fichissima ragazzi quella della binnicore ci dobbiamo ricordare quella della binnicore quella della binnicore è protetta anche dalla pioggia quindi ci permette di togliere anche che cacchio ne so mo io qui là da qualche l'ombrellino due spazi in più per mettere degli upgrade interessanti quindi queste caratteristiche noi le vogliamo nell'ape e probabilmente appena c'esce robotic dai che c'è uscito ragazzi mamma mia c'è uscito speed robotic oh oddio fermi ma che culo c'ho fermi ah fantastico fantastico quindi togliamo tutta sta roba che non ci serve a niente perché effetto non già ce l'abbiamo effetto non tolleranza non ci interessa il fiore che vuole è un fiore ecco io a fiore metterei ore ovvero in realtà lui gli basta la stone e andiamo a prendere le rochi dimmi che uh c'è un problema è vero c'è un grosso problema signori le rochi almeno per quanto mi ricordi danno eh cala danno uno di fertilità che significa significa che se io la metto a ciclare mi darà sempre un drone uno a uno e quindi io non potrò mai come avete visto qui quanti li ho sprecati ne avrò sprecati una trentina mai estrapolare il il carattere che mi interessa quindi forse e dico forse c'è uscito fertility una cosa del genere non c'è uscito sono molto sed ci dovrebbero essere delle api che hanno una fertilità maggiore eccolo qua fertility 1 2 vabbè no queste qui sono quelle lì sono le farfalle scusa mi caro però in generale un'ape di solito da 2 ok forse una cultivated da 4 andiamo a vedere la nostra amica cultivated per per messico per messico sbaglio tutto no da sempre 2 quindi io signori che faccio prendo la cultivated la butto qua dentro e aspetto di ottenere un fertility 2 così la mettiamo dentro la rochi e poi possiamo prendere i tratti di un e wow wow spettacolare meraviglioso ripensandoci ragazzi questa cosa è davvero lunghissima stavo pensando a quanto in fretta riuscivo a fare questa cosa secondo me richiede 3-4 ore e due giornate una sì una no quindi forse non è il caso di fare questa cosa qui anche se la farò io off camera non mi va di farvi vedere quindi l'obiettivo secondario di questa quest diciamo quale quest quest è di andare a prendere una rochi princess e trasformarla in una rochi princess che fa due droni fargliene fare tanti e cicciottarli qui dentro così otteniamo quelle caratteristiche interessanti per adesso però usiamo soltanto le caratteristiche che vogliamo noi e in realtà io voglio la speed robotic vi ricordate la mia amica quartz princess eccola qua cioè quartz queen togliamo questa brutta visualizzazione scusate non so ope la la mettiamo dentro vedete è slow ragazzi le facciamo fare un un salto qualitativo incredibile perché c'è slownest slowest slow fast fastest la cosa del genere e poi c'è robotic che è una bomba atomica incredibile allora andiamo a fare l'ultimo step quindi dobbiamo prendere uno di quei cosi genetic eccoli qua uno di questi genetic template questa cosa è irreversibile ragazzi potete metterci quello il gene che vi pare vedete qui dentro ce ne potete mettere 13 quindi io posso fare pure così e me ne darà più di uno come effetto mettere niente per me potrebbe pure non essere un problema vediamo un po' l'ape del quarzo che fiore usa usa la redstone ecco magari io non voglio la redstone ok voglio che usi i fiori andiamo a metterci fiore dove sta flowering flowering flowers flowers perfetto quindi abbiamo il genetic template perfetto ragazzi è un momento tropico del cancro siamo per modificare la nostra ape geneticamente modificata ok quartz princess ragazzi riguardatela eh long life slow work ok bam la buttiamo dentro oh lentissimo silent hill però ne vale la pena silent hill mamma mia ok adesso adesso forse bam e ci dobbiamo mettere il drone perché se mettete la guida qui dentro poi si spacchetta in due droni in un drone e una guida diversa andiamo a vederla bam production robotic signori effect mamma mau l'effect niente e andiamo a vedere flowers mamma mia invece di redstone quindi se la nostra ciccia è fatta adesso dovrebbe essere una bomba atomica una bomba atomica prima era slow adesso è robotic la ciccia ciccia mi dimentico sempre che ha bisogno ovviamente correggeremo anche questa cosa che non dovremmo più mettere il deserto ma aumenteremo il suo range di tranquillità povera ciccia ed ecco che parte uuuuh signori uuuuh quindi molto più lenta perde meno tempo a riacciopparsi e molto molto più veloce con i speed con i production upgrade ragazzi quest'ape è una cazzo di bomba 120 generazioni ha fatto come potete io non so se questo qui lo sta acchiappando magari lo lo blocchiamo un attimo yes andiamo a vedere signori ho fatto dei test dei test molto molto lunghi nel mio mondo in creativa perché altrimenti qui sarebbe stato poi impossibile quest'ape era slow e produceva lo 0,5 per un tempo che sarà possiamo fare finta che sono 27 secondi ok ogni 27 secondi lo 0,5 quindi il doppio ok d'accordo è più lenta del doppio bla 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 quindi diciamo ogni 54 secondi più o meno quest'ape ticcava e ci dava uno di questi c'era la possibilità che ci desse uno di questi perché comunque vi ricordo che è il 20% ok ok adesso è a robot a fast la fastest è per 1,7 mentre il nostro amico robotic è 2,5 sto cercando di fare memoria con tutti i calcoli che ho trovato quindi signori quest'ape è veloce 4 volte tanto prima perché 14 secondi più o meno più o meno neanche 13,5 ogni 13,5 ci troppa un nether quartz signori ogni 13 immaginate quando ne avremo infinito no vabbè considerate che per voi può sembrare poco abituati a un che ne cacchio sul server è qualcosa di assurdo è qualcosa di oh my god e tutto questo possiamo farlo anche con le api del diamante le api che cacchio mi pare ma ci abbiamo ancora da risolvere questo di problema speriamo che abbia finito sei assurdo eh sei davvero assurdo sono un po' preoccupato però non manca tanto non manca tanto un migliaio un migliaio voi non potete capire da quanto ci ho aperta sta puntata qui che ha fatto qui è finito è finito il quarzo oh my god è finito com'è finito ah l'hai messo qui dentro e io lo prendo e io lo prendo e lo metto lo metto a mano cioè faccio prima così non credo non credo di fare prima così portaci su sei lento eh sei lentissimo silent hill comunque sono molto molto contento ho anche provato a portarla dove stiamo ho anche provato a portarla di qua ho fatto un alveare ho modificato questo alveare qui e ci ho messo il heavy hidden perché vi ricordate i labi del quarzo vuole il deserto per adesso beh che è successo è successo che secondo me non è non è super boost da dovere perché per me c'è un controllo di frame massimi che possono funzionare vi ricordate gli printed frame è due volte per e poi piano piano diventa esponenziale però secondo me i cosi della forest si sono bloccati voglio fare una puntata con quelli di altre mod per vedere se possiamo bagabusare un pochettino perché ci piace bagabusare diciamola diciamola diciamolo diciamolo continuo a non capire perché qui continuano a mandare cose però effettivamente si lui li ha messi da parte questi qua ma se io te li rubo tutti quanti arrivando qua dentro eh tutti sbrighi dai sbrighati 400 dai che ci siamo fermi tutti fermi tutti la refiner non si aggiorna guardate cioè quelle lì le prende come export quindi gli devo dire di fermarsi fermati non come crafting andiamo a dare un'occhiata vediamo un po' oh my god oh my god quanto è quanto sono 16 milioni 16 milioni fatemi dare un'occhiata 70 mila 100 ragazzi non ci abbiamo mai più di 16 milioni cioè non credo almeno perché cioè wow che figata ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta non ci posso credere aspettate che vado a autocraftarlo non ci posso credere che abbiamo risolto in una puntata soltanto sarei tipo la persona più felice del mondo anche se effettivamente beh beh è durata 700 anni andiamo a craftarne one ok perfetto funziona tutto regolare ragazzi io la metto qui ci butto il bombone dentro e come potete sta a zero vedere come potete vedere un po' la stanchezza ragazzi sta a zero andiamo qua sotto stando molto attenti a dove mettiamo le manine si ok clicchiamo qui ok la priorità qui è zero e dentro ci stanno un milione quindi abbiamo pure la visuale perfetto perfettissimo mamma se io metto più 5 gli oggetti iniziano ad entrare qui dentro ragazzi è il momento di basta è il momento di facciamola finita è il momento di rompere i legami con il passato e recuperare gli fps perduti ovviamente qui adesso ragazzi vedete soltanto queste piccolissime cose perché perché devo tirare fuori tutti gli oggetti da questo qui e mandarli dentro questa schedina qua che però porta l'ira di dio beh signori io vi devo allustrare qui perché davvero se no vivo solo per la bigraft spero che questa puntata vi sia piaciuta abbiamo fatto l'ape più veloce del mondo e quindi faremo diventare tutte le api così veloci abbiamo fatto una scheda di cristo e abbiamo risolto un grande grande problema quindi spero che i nostri fps tornino a macinare appena libero quell'inventarione gigante e niente lasciate un pollicione più in su ci vediamo tutti i giorni su twitch adesso i giorni pari il pomeriggio dalle 16 i giorni dispari la sera dalle 21 bella raga ciao 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 ciao